I genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Sant'Eufemia hanno deciso di protestare davanti ai cancelli della scuola contro la decisione di cancellare l'istituto e di accorparlo ad altre scuole, secondo il piano di dimensionamento scolastico. I genitori stanno raccogliendo le firme da consegnare poi al sindaco Paolo Mascaro per chiedere un incontro con il presidente della provincia, Amedeo Mormile. Per sabato 14 ottobre alle ore 9 è comunque prevista una manifestazione per le vie del centro, invitando tutti i genitori, i bambini e le loro famiglie, i docenti e tutta la cittadinanza di Sant'Eufemia, Mortilla e Gizzeria a partecipare in difesa della scuola e del proprio territorio.